E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video, un pezzo direi molto importante del mio percorso su YouTube perché quest'oggi finalmente sono pronto per mostrarvi la mia configurazione, il mio desk tour, come ho costruito e assemblato la mia postazione ed editing principale nel nuovo studio. E in questa casa un intero locale è adibito a studio, quindi ho tutto lo spazio del mondo per poter realizzare i miei video, per poter fare le mie creazioni, per poter lavorare. Perché YouTube infatti da quest'anno è diventato il mio lavoro a tempo pieno. E quindi quest'oggi, dato che ho ultimato la mia prima postazione da editing, ho deciso di farvi un tour, di mostrarvi un po' come la utilizzo, cosa ci faccio ogni giorno nel quotidiano e soprattutto tutti i pezzi che la compongono. Quindi ovviamente prima di cominciare vi ricordo che tutti i link di tutti i prodotti che mostrerò ve li lascio qui sotto in descrizione qualora li voleste acquistare. Dato questo non perdiamo tempo e cominciamo con il video. Questa è una postazione un po' particolare. Il suo concept, diciamo, è stata realizzata per fare in modo che possa convertire un MacBook Pro, un MacBook Air o in generale un qualsiasi portatile, anche Windows, basta che abbia una porta Thunderbolt 3 in un computer fisso. E quindi deve essere una cosa che proprio chiunque arrivi, che sia io, che sia un mio amico, collega youtuber, appoggi il suo computer, il suo laptop al lato della scrivania, ci attacchi un solo cavo magico e magicamente tutto venga trasportato sul monitor grande e tutto diventi una postazione fissa da editing. E perché tutti questi complessi? Perché ovviamente mettiamo che mentre sto lavorando, mentre sto editando un video io debba uscire di casa, debba prendere un treno, debba prendere un aereo e non ho finito il lavoro, non ho finito magari il video da editare, devo essere assolutamente in grado di poter riprendere tutto quel lavoro in mobilità. Quindi questa postazione mi consente anche di staccare questo cavo magico e boom, tutto il mio lavoro viene ritrasferito, diciamo può essere ripreso da dove l'avevo interrotto sul computer portatile che poi mi metterò nello zaino e mi porterò a presso ovunque io debba andare. È una sorta di Nintendo Switch che può diventare console fissa o portatile a seconda delle esigenze per chi non avesse capito. Ed il merito di tutto ciò, il fulcro, il cuore pulsante della postazione è proprio l'elgato Thunderbolt 3 dock pro, uno scatolotto di queste dimensioni che però accidenti a lui costa poco meno di 350 euro. Questo è come se fosse un ponte tra il nostro computer portatile e la nostra postazione fissa. Vedete che sul davanti presenta due porte USB A, quindi normali, una porta jack per l'audio, un lettore di scheda SD e un lettore di scheda micro SD. Tutto molto bello, queste porte le uso quotidianamente, unico problema sul retro non ci sono porte USB A. Ho dovuto per forza attaccare al dock Thunderbolt 3 uno sdoppiatore USB-C, di quelli per il MacBook, quindi ho dovuto fare questo accrocco perché sennò non mi andava la scheda audio. Però funziona, adesso il computer portatile è collegato a tutta questa meraviglia, in particolare c'è il monitor che è un Asus ROG Swift PG348Q di 34 pollici quad HD, quindi 3440x1440 pixel pannello IPS fino a 100 Hz. Ed è un monitor spettacolare per la produttività e soprattutto per l'editing, con la timeline bella lunga, poi anche leggermente curvo, quindi quando monto con Final Cut è davvero un piacere. Ormai ritornare ai monitor 16.9, piatti, così tristi, mi mette veramente di cattivo umore. Come casse ho voluto fare un leggero throwback, perché infatti queste sono le Audio Engine A5+, che sono state le mie prime casse serie mai comprate, facciano parte del mio primissimo setup, i veterani del canale di 4 anni fa se le ricorderanno. Sono delle casse molto buone, hanno degli ottimi bassi, considerando che non c'è nemmeno un subwoofer per il momento, e hanno un volume molto, molto alto senza distorsioni. E per quanto concerne le periferiche invece, ho deciso di acquistare a parte, separatamente, il kit delle periferiche dell'iMac Pro, quindi tutte in colorazione nera. Abbiamo la Apple Magic Keyboard 2, l'Apple Magic Trackpad 2 e l'Apple Magic Mouse 2. E voi starete dicendo, ma se hai un computer solo? Non proprio. Qui sotto infatti, voi adesso non lo starete vedendo, c'è un computer assemblato. Io nel corso degli anni ne ho assemblati tanti, ma questo è sicuramente il mio preferito. Un po' perché mi è riuscito proprio bene, mi piace l'accostamento di colori, i pezzi che sono dentro sono molto performanti. Si parla di un 8700K come processore, un AMD Radeon Vega 64 come scheda video, ed il case invece è un Corsair Carbid 400C. Quello è seriamente il miglior Hackintosh che mi sia mai riuscito. Anche se poi ci ho installato in parallelo anche Windows su un altro SSD, perché non lo trovavo molto sensato avendo già un Mac originale al lato della scrivania. Ho preferito avere il PC secondario con sopra Windows, quindi principalmente l'uso in questo modo per il momento. Ma visto che questo monitor include un solo ingresso di DisplayPort e appartengo a quelle categorie di persone che piuttosto che collegare un computer in HDMI preferisce terminare la sua vita, ho comprato su Amazon un banalissimo sdoppiatore di DisplayPort che non si deve nemmeno attaccare alla corrente, funziona tutto meccanico e in analogico. A portata di un clic e di un bottone posso switchare da Mac a Windows a mio piacimento. Dopodiché sulla mia scrivania ci sono altre periferiche, in particolare sono tutte dell'Asus ROG. Abbiamo queste cuffie che sono le Asus ROG Delta, che a parte il design mi ha colpito veramente tanto, la comodità quando le si indossano. Io ragazzi ho un problema con le cuffie over the head, quindi quelle grandi, i cuffioni, perché mi fanno un male cane. Queste cuffie sono maledettamente ergonomiche e maledettamente comode con questi cuscinetti. L'Aura Sync, quindi tutte le lucine, RGB, l'illuminazione, anche quella mi piace da impazzire e in generale la qualità è molto alta. E sono appoggiate sopra all'Asus ROG Throne QI. Questo, come si intuisce dal nome, è un trono. No, al lato pratico sarebbe lo stand delle cuffie, infatti vedete le appoggio qui. Però ha anche altre numerose funzioni. Per esempio, alla base presenta due porte USB 3.1, quindi molto veloci, e poi presenta anche un ingresso jack, qualora volessimo collegare appunto le cuffie stesse. Che però, come cavo principale, sono USB-C. Ma quello che veramente adoro di questo Throne è la possibilità di ricaricare un qualsiasi dispositivo QI appoggiandolo sulla sua base. Peraltro mi è venuto in mente adesso, parlando di queste cuffie, che hanno il cavo completamente schermato e quindi non fa interferenza con altre frequenze. E voi direte, ma quando mai le cuffie o le casse hanno fatto interferenza con altre frequenze? Cosa stai dicendo? Voi non sapete cosa mi è successo due sere fa. Stavo lavorando al computer, stavo editando un video, ascoltandolo tramite queste due casse. Erano circa le due di notte. E a una certa sento un bisbigliare, sento delle persone parlare in modo anche abbastanza forte, però il suono che sentivo era molto piano, molto delicato. E quindi ho detto, boh, avrò qualche pagina di YouTube aperta in background, ho chiuso tutte le applicazioni, niente, sentivo ancora questo brusio di sottofondo, che veniva dalle casse, cioè era chiaro. E allora mi sono detto, boh, prova a spegnere il computer. Spento il computer, il brusio c'era ancora. Terrorizzato, ero già pronto ad uscire dalla porta sul retro che non ho. Mi sono detto, oh, stacco le casse dalla scheda audio, così non hanno nessun input, non possono riprodurre suoni. Stacco, dalle casse si sente ancora. Allora, la prima idea è stata quella di lanciarle fuori dalla finestra, colpendo anche qualcuno che passava di lì. Poi ci ho pensato ed effettivamente, se i cavi jack non sono schermati bene, possono intercettare, dipende da dove si trovano, le frequenze radio. La radio FM, quindi le mie casse in questa posizione intercettano la radio. E quindi una notte mi deve editare i video ascoltando Radio Maria. Vi pare una cosa normale? A me no. Comunque, oltre al mio iPhone, sulla scrivania è sempre presente il corrispettivo Android che utilizzo. In questo momento, ovviamente, è il Galaxy Z Flip che ho aperto ieri e che mi sto provando in questi giorni. Quindi arriveranno tanti altri video su di esso. Ed in generale mi piace molto il look che ha assunto questa scrivania. Il cable management è buono, per terra è assolutamente pulito e se spostiamo la scrivania vedete che sul retro è stato fatto un ottimo lavoro. Principalmente ho usato il nastro biadesivo della 3M, che questo veramente, se lo attacchi, dopo lo stacchi, ma ti tiri via anche tutto il resto. Poi ho utilizzato ancora più forte il 3M Dual Lock, che è anche lui un biadesivo però con il velcro. Quindi queste due strisce di velcro che si intrecciano tra di loro e questo veramente supporta dei pesi incredibili. Cioè l'ho usato per attaccare la ciabatta, corrispettivamente la scheda audio che c'è accanto, oppure sul retro tutti i vari alimentatori dei cavi grossi, tipo quello dell'elgato, del monitor e li regge senza problemi. E poi, come vedete, sul retro comunque c'è un percorso che tutti i cavi fanno per nasconderli e per fargli fare questo percorso ho utilizzato delle fascette, molto banalmente quelle col velcro per raggruppare i cavi. E poi queste clip ferma cavi che sono la mia salvezza. Guardate, non so se si vedono ma si possono chiudere e sono adesive, quindi tu puoi assolutamente gestire i tuoi cavi e fargli fare il percorso che meglio ritieni. Unica cosa, non sovraccaricatele di cavi, non ce ne mettete troppi dentro perché altrimenti dopo un po' esplodono. E lo so perché mi è capitato. L'unico cavo un po' in mezzo alle scatole è dei Nanoleaf, che sono i pannelli sopra di me. Non so se l'avete notato ma questo dovrebbe essere un YouTube Play Button. Molto bello, mi piace ma queste Nanoleaf costano l'ira di Dio. Poi i soldi li valgono anche perché hanno mille funzioni, hanno il rhythm che li fa andare a tempo di musica, sono comandabili ovviamente dall'app per smartphone, domotica, molto belle, quello che vuoi. Però un kit di espansione con tre pannelli ti costa 50 euro e volevo tappezzarmi il muro intero quando ho visto il prezzo, mi è passata la voglia. Però sono contento di avere questo Play Button qua sopra, è simbolo di potere, simbolo di postazione da editing. E poi l'altra fonte di illuminazione è una striscia di Philips Hue posta appunto qua sul reto della scrivania che è quella che dà questa illuminazione rossa. E tutto questo per creare ogni giorno video di qualità sempre più alta. Quindi che dire ragazzi, questa era la mia principale postazione da editing. Quello che mi piace pensare è che è solamente l'inizio, cioè l'ho assemblata da un mese e non vedo l'ora di vedere questo studio in generale cosa diventerà. Lasciate un bel pollice in su se volete vedere un tour dello studio, della casa e soprattutto dato che tra poco dovrò fare il salotto tech, fatemi sapere se volete un video i miei iscritti decidono come fare il mio salotto tech perché vi giuro che lo faccio. Detto questo ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi ricordo comunque di lasciare un bel pollice in su che mi renderebbe veramente felice. Seguitemi su tutti i miei social network, come sempre il link ve lo lascio qua sotto giù in descrizione. Cliccando qui ai lati potete raggiungere altri miei due video e invece cliccando qui al centro vi iscrivete al mio canale. Se lo fate siete dei grandi, io vi mando un grande saluto e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!